Occhio all'esplosione! Lancio una granata! Mancano 15 secondi. Rimangono 10 secondi. Resto solo un operatore d'attacco. Cinque secondi. Non mi occupare il contenitore. Non mi ha realizzato la cassa. Difensore rimasto. Difensori eliminati. Missione d'attacco riuscita. BOOM! Bonny, ti parto. Non ho capito, Jimmy. Ti ho parto per la cam. Ah, cazzo, l'ho già messo in corridoio. Ok. Siamo a 10 secondi. Vero davanti e... Io do ci guardo io. Ne vuoi uno in CCTV? Siamo a 5 secondi. Sì, può essere. Magari tipo lì e spacca. Era proprio roba. Il contenitore di biorischio. Il nemico ti scoprirà se non hai visto ancora. Il nemico ti scoprirà se non hai visto ancora. L'ho scoperto. Torna indietro. Oh sì, che spettacolo. No, no, vai via. No, vai via. Faremo a dire un nuovo. Infatti sta! Io vado a kepko, Freaga! C'è proprio ultimazione in diversa을 должен caver. raga sciolto l'hai fatta eeeh scale principali raga era sotto scale principali vado io vado io prendete tempo ma parto in mira da sotto è in cantiere ultimo nemico rimasto ultimo sotto no l'ho preso io quello sotto CCTV ce n'era uno no sta andronando in sala relax si entra in sala relax merda raga per fortuna che voleva se nero morto per fortuna che lo metto sempre porca madonna oh no non ci credo con l'ultimo colpo c'è lui e cavo l'ultimo è lui è ancora là dentro sicuro ok 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 cazzo mi fai sborrare quando fai queste cose ok boni c'è la porta chiusa con cazzo non lo stai facendo davvero no no voglio che salga quello da viso è salito è salito è muto ok piano aspetta ricarico copritemi cambio caricatore figlio di troia che buco mi fa io i figli del cazzo ultimo nemico rimasto ultimo nemico rimasto ultimo nemico rimasto sicurdi i difensori hanno eliminato il i figli del cazzo ultimo nemico rimasto Oh merda No Che flick Attività nemica Dammi le posizioni di quelli dentro No c'è Vigil C'è Vigil C'è Vigil adesso in relax mi sa Raga c'è Vigil Ho aperto il mira Vai ho fatto Fede riesce a tornare Raga è sceso È Vigil di sotto infatti Vigil preso Darmai puoi spaccare Ma cosa che sfiga Dov'è? Eh può fuori ancora Cos'è sta laggata riega Sta laggando di brutto Ricarico Uno è su Fede Fede destra Twitch Cos'è? Eccolo Fede Fede Dove eri prima Dove eri prima Qua te l'ho sbottato Fede sta arrivando Ti dico se arriva qualcuno Ok Dove è il resto della tua brigata Non è stato difficile eliminare il tuo collega Però mi sono divertita lo stesso Gli altri livelli È giù È giù È giù È là È là Te l'ho sbottato Ti arrogo Voglio sapere tutto Gli ultimi due sono fuori Quanto laggo Ma cos'è? Qualche call Sono già entrati Eh vecchio Sono fattato Aspettato Mi vanno qua fuori Dalla porta doppia Anche ascia Anche ascia Da sotto Rega Che esce? Che esce? Sì Sì Un è rampinato qua fuori Mi sta andrando a sbdp È là dietro Alla scrivania Cambio caricatore Granata Ascia rampinata Aspettate Ascia È una sbdp È una sbdp Il nemico Nermite sta prendo qua Il muro con ascio È anche i bonus Sì sì Non so chi era No ero sulla torre La scarsa Oh Cazzo Che cuno Che rimane in questa zona Il nemico